Clima Veneta Clima Veneta è un'azienda che è nata nel 1971, proprio quest'anno, nel 2011, festeggiamo i nostri 40 anni. È un'azienda come marchio sicuramente conosciuto nel settore del condizionamento, del comfort e della rifrigerazione. Da alcuni anni abbiamo realizzato un catalogo di alcune pompe di calore dedicate che chiamiamo Prana. È nato il catalogo delle pompe di calore Prana per soddisfare quelli che sono i requisiti della comunità europea che entro il 2020 ci richiedono un 20% in meno dei consumi, un 20% in meno dell'emissione di CO2 nell'atmosfera e l'utilizzo di un 20% di fonti rinnovabili. Ricordo infatti che le pompe di calore rientrano come fonti rinnovabili, quindi vanno a soddisfare quelli che sono i requisiti della comunità europea. Oggi in Fiera Verona presentiamo dei nuovi prodotti che sono l'iEnergy, una pompa di calore con compressore ad inverter e recupero totale di calore. Questo ci permette di produrre acqua calda sanitaria in modo gratuito durante il funzionamento estivo. Inoltre presentiamo anche una nuova pompa di calore sempre con un compressore ad inverter che si sposa molto bene con soluzioni a basse temperature quali pannelli radianti. Entrambe le pompe di calore, iKIR e iEnergy, adottano il nuovo sistema Nadi System che permette di integrare diverse fonti di energia quali la pompa di calore, resistenza elettrica, fotovoltaico e solare termico. Inoltre presentiamo anche una nuova pompa di calore, con una nuova pompa di calore,